Lei è cieca, c'era un motivo per cui era cieca, Patrina. Volevo da succhiare i cazzi e non vedere che era... E bentornati su... Guardalo, guardalo! Aspetta, aspetta, picchiarmi! Vi diamo 30 secondi in più in sta puntata. 15 minuti e 30 secondi. Perché dobbiamo aspettare che il timer dell'altra puntata finisca, che è durata meno. Lo sa la memoria! Dove ci mettiamo? Io sono Cervantis. Che bello è giocare a Muzzo sul Calibur? Cioè, è proprio brutto vedere il picchia 2 o 3 di così a Muzzo, non so. Ok, oh! Fai partire il timer. Fai partire un cazzo di timer. Però è molto scenico, dai, quello sì. Vabbè, è divertente comunque. Almeno così nella nostra ignoranza, diciamoci. Non capiamo un cazzo di picchia 2 noi. Vabbè, non quelli 3D, o tipo sul Calibur non abbiamo mai fatti. Io voglio fare delle mosse, però. Io voglio fare delle mosse. Non le so. Chi è quello? Come saltano? Ma perché sono girato? Oddio. Oddio? Oh, eh, lì non ho avuto il timing. Oh, eh, lì. Oh, eh, oh, eh. Ehm, dopo che non giocavo a un picchiaduro, però è divertente anche così. Eh, guarda questo divertente. Uno pari stronzo! Mi buttavo! Oh, chi è arrivato... Ma non ha lo stesso valore nel picchiaduro 3D, eh? Ah, no. Che hanno 3 round. È vero. Vabbè, però... Dovebbe essere due pari stronzo. No, non puoi cambiarlo. Cioè, chi è arrivato nel canale che non giocavamo più a picchiaduro... Può tornare... Non devi ballare il culo, eh. Può tornare ai vecchi video dove facciamo un po' il picchiaduro 2D più che altro, non questi qua. Aveva fatto qualche Tekken anche. Qualche Tekken c'era, eh. Però Tekken erano dei ritardati online. Cioè, io lo davo in mano a un cane mongolo senza le zampe e vinceva. Ma non ce ne contro Dalbis. Sì, avevo preso il Voldo che è impossibile da giocare. Non vincerai mai! Aspetta. Con calma. Con calma. E poi il Voldo che è impossibile da giocare, che cazzo ne sai? No, lo so. No, lo so, quelle cose. Ma non vedi che è tutto strano. Ma che cazzo c'è? Io te lo dico, sono quelle frasi che dicono, sai, che tu ti incazzeresti se lo dici qualcuno su un gioco che non sa. Hai capito? È vero? Tipo nel calcio. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Il buon mecchio ta 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 ta. Sì, hai ragione, dì. Hai ragione, Albi. Hai ragione, Albi. Non ho neanche sentito perché sta giocando impegnato. E quindi ha detto addirittura. Hai ragione, Albi ha detto. Albi. Da quanto lo sta ascoltando? Due pari, bastardo. Due pari, bastardo. Pezzo di coglione. Due pari, terrone. No, beh, scusate. No, è lock perché il terrone può. Io sul terrone posso dirlo. Se dici terrone, Albi smoffendo però. No, scusa, è vero. Eh. E qua è diventa seria la partita, eh. Va. E qua c'è l'hype. Qua c'è l'hype. Ah, il pelo proprio così. Ti ha perso? Eh, indovina. Indovina. E di nuovo 1, 0-1, 3-1, 3-2. No, non è a 0-1, ragazzo. Siamo arrivati uno pari. Non hai fatto il comeback. E mi ha giocato romano. Chi uso adesso? Un uglione. Guarda, guarda, l'ha attivato a lui adesso. Adesso l'ha attivato ad Albi. Uso Maxine. Uso Xivina. Ma sì, sì. Ma non è il cazzo che vuole. Patrina, c'è anche, c'è gotica. Che patrina, dai. E patrina serve patroclos in femmina. O Nadala. Nadala. Che Cervantes. Naives. Che Mitsugi. Sì, ma non mi hai fatto un cazzo, c'è ne ho uno. C'è ne ho uno, Locke, per favore, bala la gola. Sai, questa è una cosa bella, che adesso noi ridiamo perché ci sono i PG. Ma lui è passato tipo 6-7 ore a fare i PG. Ma io ho anche scritto il background che avevo messo in quel video. A ogni personaggio gli ho scritto una storia. No, sì, ma Locke non ha... Poi comunque non c'è a montare i video. Diglielo. All'epoca... All'epoca, ma a tempo, adesso non c'è più. No, ma non hai proprio. C'è Ezio Greggio. C'è Ezio Greggio. Sai cosa, non hai motivo di vivere tu. Posso lanciare i PG. Ma guarda che carina che è Naives. Non fa molto samurai misterioso. Sì, ma scusa, che personaggi hai preso te? Eh, va bene. Guarda che spazio, ma sembra la stia cosa. È Mitsugi. Uh, le freccina. Ah! Anche la voce gli ho scelto accuratamente. E' un figo. Ma lui fa sempre un colpo speck. Come le donne sto giocando. Beh, così, che parla. Perché è un... Lamer. È uno schifoso pezzo di merda. Per fararsi c'è un tasto, sapete? Io li sto parlando. Sì, ma è già prima, eh. Hai perso, infatti, prima. Perché la sapevi prepararti. Ma come si fa a saltare questo gioco? Non è che sai, è una mossa. Sali su. Sali su. Sali su. Siamo qua a mono-hit. Sì, sì, sì. Che tira qualche combo c'è, eh. Sì, stiamo facendo, guarda. Eh, hai visto? La so quella. Ho capito, l'ho scarcata. Ah! Fantastico! Una paristronzo! Pezzo di merda. Adesso la darmi si recupera. Ops. Non puoi fattare mezza vita un colpo così. Ma perché sono un personaggio lento, io. Ma che cazzo vuol dire? Vuol dire. La. Metà vita ogni colpo, tipo. Vabbè, ma sembra questa cosa, Locke, per vincere, è come col canguro, così. No, ti ricordi? Se i bagliari ti pari, a dare. Quando giocavamo a Soul Blade. Lui faceva solo così con quella merda. Non ero io, mi avevo giocato a Soul Blade con voi in metà vita. No, Soul Blade. Era Soul... Out of the ring! BITCH! BITCH! Era Soul Calibur tipo Bo2. Tipo Bo2. Bo2. Sul Calibur Bo2. Che c'era uno che con il triangolo lo facesse. Eh, sì, è Raphael. È Raphael. Lui. Hai usato. Ma in bocca. Comunque non eri nemmeno tu che lo facevi. Sì, infatti... Sai cosa? Oh, dai, che per... BITCH! 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 È un grazzi tuo il gioca lui. È una vittoria. Ripose in pace. Comunque non era lui che faceva questa seconda. Però gli ho una fattata sosta. Ma Loc perde! Loc non vince che è un'altra persona. Non vinci mai. Silenzione personale. Qual è? Loc non vince nessuno. Loc non vince nessuno. Cosa vuol dire? Nessuno. C'è anche Yoshimitsu. Ma c'è anche quella con i tette grosse. Quella con i tette grosse. Tutte le mie personagge hanno le tette grosse. No, ma Ivy c'è. Quelle vere, non quelle taroccatette. Mi pare. Sì, vieni. Adesso lo prendo io. Prendo io, Raphael. C'è, no, prendo gotica. Gotica. C'è, davvero? Ops! Non la vincere mai. No. Vai, vai. Oh, ma è brutta? È strana gotica perché anche il profilo non era... C'è, le tette vabbè enormi perché è easy, schiacciante enorme. Come... No, infatti io ho più bugia plastica. E poi deformare come vuoi. Sì, ma fatti un colpo per favore. Mono-hitting. I giocatori di Soulcalibur ci scuseranno perché magari... Uh, ho fatto una combo. Questi nabbi che provano a giocare a Soulcalibur. Uh, eccolo qua. Ecco. Là, ma che triangolo. Era questo. Era questo. Era questo. Era lì. Ah, ho capito, sono morto. È una chino. Vabbè, a me insiste. Là. Là. È una sgravo questa. Là. Ah, per inabbiare la scala, vale per l'elento. C'è, c'è, c'è una cover di lunga. C'è una vagina, hai messo. Cing, cing, cing. Vedi, tre colpi di tiro ho fatto. Vi stai davvero. È una combo. Eh, sì. Eh, sì. Tre colpi di tiro, anche più quelle combo. Vabbè, non è una combo. Guarda, che spazza. E' una spazza, to coglione del cazzo, morisse adesso. Pugano, non è una... Max. Eh, vabbè, ma lei magari è oltre. Come tente è Max. È oltre. Perché l'ha fatto il programmatore. Sì, fatti. Eh, fai colpi di tiro. Guarda, guarda, guarda. Eh, così si combatte con lo stiletto, eh. Non è che io non c'ho uno spadone, eh. È un combattente. In realtà, sì. È uno spadone frusta. È lunga. Vabbè, è una daga, tipo. No, è un... È un gladio, tipo. Come lo usa? Muori! Eh, vabbè, non ci chiami su un cazzo. Da schermitore, proprio. Perché sei scarso, eh. Da schermitore. Lo sa che non attacca più. Non attacca più, perché adesso a me può anche perdere. Perché ha vinto abbastanza. Questa invece è la scusa per farti perdere adesso. Te l'ho già detta, quindi puoi fare anche perdere. Lei è proprio una schermitrice. È lei lui. Ho sempre la stessa cosa. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Che non c'è un... Una strategia. Una strategia. No, c'è il cibo di tatti, niente. Non ha mai tattica. Faccio il passettino a te, vale. Locke, non ha tattica, eh, sul cazzo. Questo è diverso. Cazzo vuoi di più. Sì, ma basta che sia di triangolo, fa tutto, lei. Perché io pensavo già, schifo. Ho fatto anche cerchio. Ma va. Ma va, va. Vedi che alla fine... Guarda, sai, il gioco sempre. È Locke che devo giocare la mattina o la sera. Eh, tenga. Ma chi perde? Tenga, vedi che lei perde e poi vuole giocare lo stesso. Schifo, madonna. Tutti, anche il mio. Cos'è questo? È Nightmare. No, Nightmare è un film. No, Nightmare è un film. No, Nightmare è un film grosso, è proprio una... Perché il grosso mi piace. Nightmare. Non c'è tipo Sofia? E' quella lì, credo. E' questa? Eh no, c'è Pirra, che poi forse è uguale. Pirra. Pirra. Forse l'avevi fatta anche... Ma però non so. Cioè, è un tipo... Quindi io c'ho sul Kale pure adesso. Con l'altro Kale. Che lui sì, che lui sì. Ma dai. Figo. Oh no, c'era Spadonantino. Ma questo l'avevo preso un cazzo proprio. C'era in offerta su live a 10 euro. Che è lentissimo. Questo è che dovrebbe essere tipo Siegfried. No, poi del genere. Però è extra lento. È extra lento. È extra lento anche. No, ma l'hitbox sono tutti uguali in questo gioco, credo. Perché tanto che tu vuoi farti i personaggi personalizzati, per forza hanno tutti lo stesso hitbox. Ehi, ehi. Ehi, che è là, che ha raggio lunghissimo, tipo. Però devo stare lontano, è troppo lento. È lentissimissimo, è l'errimo. Adesso dovrei imparare una combo. Ti imparano una combo un attimo, poi te la fanno. Ma non credo che faccia molte combo, questo personaggio. Lo copiare tipo una volta e li fai a metà vita. Non con quella mossa. Usa la spada? Eh, usa la spada. Non c'è il tasto, usa la spada. Eh, in realtà penso proprio che ci sia invece. E infatti guarda quanto ci mette a fare partire una mossa. Un quarto go. Eh, non ce la faccio. Perché pesa la tua spada. Sì, ma sei grosso. Usala bene questa spada. Guardi sotto. Ma c'è che qua gli stage sono tutti interattivi. Cioè cambi, butti giù, fai cose. Cambi. Cambi. Oh, ma quando ti entra dentro lì. Eh, ma non posso fare un cazzo. Tu sei fatti tipo un calcio, questa fermo. E tu lo sai, perché ti pare. Beh, no, mi faccio prendere adesso. Eh, ma mai più. Mi pianta la mia pancia. Fai le prese. Volevo finirti con una prese. Là. Vabbè, però non ho giocato un calcio. Ripagli e prendere un altro. Beh, dovresti cambiare tu. Ma sono giocato un secondo. Ma hai giocato anche prima te. Hai giocato anche prima. Ho giocato un secondo. E non è qualcosa di sì. Prima è un po' facilmente. Prima è un po' facilmente. Prima è che hai perso troppo easy. Perché io uso adesso. Uso la mia... Lei è cieca. C'era un motivo per cui era cieca, Patrina. Prendete a succhiare i cazzo e non vedere che era tu. No, aveva subito una violenza... E non vedere quanti erano grossi. Aveva subito una violenza da piccola. Andate a vedere il topic dove... Ma che cazzo vai a vedere? Eh, è un nostro video. Vabbè, vai a vedere. Ma andate a vedere. Olè! Guarda che figa che è. Patrina. Come va a vedere? È una ricetta. Tu dovresti essere nero, tipo. Lei, sì, io no. Oddio, oddio, aspetta. Lui vede bene come. Vabbè, tu c'è il... Lo sai cosa fare con la tua? Eh, ma che cazzo dice con un altro personaggio? È mio. Hai fatto. Quindi vedi che lo sai. Ho fatto. Ma lui ha sempre queste cose. Ehi, ninja sta qua, però. Minjia Zawa. È figa, però. È più figa della tua. Sembra i buchi, tipo. È più figa della tua, anche se ha perso. È una mia cieca, però. Le tette, anche più grandi, e ballano. Le fate così le tette. Eh? Eh, sì, io ho fatto così le tette, penso. Le fate così le tette. Sabe che hanno tutte le tette al massimo? È tutte le tette al massimo, i miei PG. Ma una forse c'è leggermente sotto al massimo. Leggermente, per far equilibrare il po'. Oh, presa, teccia pure. Teccing, però. Poi è proprio professional. Ehi, che cazzo è? Non vale te le trasportarsi in sto gioco. Mi taunta. Ma i teleport, non gioco più cazzo. Ma i teleport, non gioco più cazzo. Ma i teleport, non gioco più cazzo. Mi manda, mi manda. No, ma vedi questa cosa qua, anche la stiera di combattimento è quello. La stiera di combattimento è quello. Ma sì, la stiera di combattimento è quello. Sì, e poi non lo so, adesso ci sono allenata sì. Probabilmente, cioè, il background sarà quello. Solo che gli ha dato un'arma, invece, ai buchi. Ehi, guarda qua, guardati quei, sbaccati quei. E tu dai, un mio monoitro che fa metà vita. Eh, ora. Non ha preso, ho fatto. La presa. Qua si fa? Fa malissimo, tra l'altro, anche. Anch'io l'ho fatta. L'ho techciata. Ah, l'ha presa. È con BX. Vai. Ah, XA. XA. Dove fare i fii di puttana? No, 2A1. Duello da cosa? Cosa vuol dire? Oh. Oh. Ah. Faffanculo. Fa poco danno, sta tizia, cazzo. Te mi dai un colpo per metà vita. Ah, questa si è. Ho la presa. Là. Bravo. Fa malissimo. Perché lui fa i colpi giusti. Eh, lo so, sto giocare. Perché si assudia, studia. No, 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 no. No. Avranno tutti dei problemi, in verità. Tutti hanno dei problemi sotto. No, alcune hanno un passato... Un passato... Bocascuoso. Alcune vogliono solo alle dalle. Sì. Che cazzo dici. Ah, porca trone. Comunque, commentate se avete giocato sul Kaibo, se siete dei problemi sul Kaibo, se ci schifate perché giochiamo di merco. Questa è in finale a Levo, sta qua con la palla. È sgamo con sta lancia, tipo. O me de do. Come ina io. Ha! Anche l'ha è uguale, giapponese. C'ha la stona questa. Come de do! Come de do! Questa non è cazzo facile da usare. Non fa danno questa. No, perché c'ha la pallina, tu la devi mollare lì. Sì, e poi farei tre cose. E poi devi schiacciare i tasti. Come do, devi fare in amba. Devi sapere. Fai tipo un t-bag. Poi, che figa. Questa è figa. Kaeyest è una differita, credo. Lei, vedi, Kaeyest non ha la teta massissima, credo. Eh, perché Kaeyest rispetto per Kaeyest. Quindi faccio me lo tette, perché non la voglio strumentalizzare come oggetto sessuale. Ma è sì. Non vuoi fare una sega con Kaeyest? Siamo al mio PGD della show. Kaeyest è la tua parte oscura femminile. Esatto. Da Kaeyest. Da Kaeyest. Da Kaeyest. Ho capito a dove, sono arrivato perché mi sto concentrando. È il nick segreto di Adalbi. Questo è proprio per i mega fan dei suoi vado in prova. Sì, perché chi lo sa cos'è Dark Aeyest. Che Aeyest. Eeyes. 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 Dark Aeyes. Se chiamiamo Eeyes. Eh sì. Sai dire così. È diventato di stare davanti il suo coglione di Adalbi. È rito, mi diceva. È va giusto. E non mi cazzo. Mi cazzo l'umbù sempre, madonna. Vabbè, basta, cazzo. Basta, basta. Bello sul caipo. Come tanto se giocheremo qua, ma tanto non giochiamo. Guarda, questo Neo, io il Neo lì mi fa impazzire. Dov'è il Neo? Dov'è? Eh, il Neo lì c'era sul labbro. Sul labbrino. E vabbè, che è il Neo. Ma perché c'è la zanzara. Beh, è il Neo. Bello, ci siamo sfogati un po' su un picchiaduro. Vecchio stile. Non giochiamo più a nessun picchiaduro per sei mesi. Comunque vabbè, se vi è piaciuto tutto, commentate, condividete, mettete mi piace, comprate la maglietta che adesso costa solo 10 euro, non più 15. E' approvazione estiva. Noi siamo sui metti di voce, sono Adalbis. E sono l'Op. Non vi preoccupate. Torniamo fra un seconda. Fra un seconda.